...e la visione speciale del TG Rai Regione Chietiscalo. Le ultime notizie. Un uomo è stato avvistato che amava una camera. La Chietiscalo? Sì. No. Il filobus numero uno ha fatto da Chieti a Chietiscalo in meno secondi del solito. Un mese e mezzo. Un mese e mezzo. La stazione di Chietiscalo è passata a Chieti. Non è stata più grande. Grande. C'è cresciuta ed è arrivata fino a Chieti. Io questo tutto. Cosa ne ha visto? Era questa stazione che prima era piccola. E poi tutto tutto. Ma poco! Ma fa un sviluppo fenomenale. Sì, sì, bravo. Ma come la gara pubblica? Come la gara pubblica? Ma le domande... Ma non c'è il giornalista. Tu devi fare il saluto. Ah, il saluto? Sì. Un saluto al giornalista. Un saluto al giornalista della Rai Regione Abruzzo, che è la nostra regione, tranne la sua perché lui è molisano. Parolalo via, vai via. No, prima erano... E' vero, è vero. Prima era Abruzzo Citeriore e Abruzzo Superiore. E quindi sì, questa unione tra Abruzzo e Polizia viene fuori... Viene prima l'Abruzzo. E se che bel saluto, ti è piaciuto il giornalista? Faccio capatone. Erbe Ballerina. Dico, abido. Saluti. De malpete.